Si chiama screening e salva la vita. Riceverai nei prossimi giorni una lettera o una telefonata che ti inviteranno a partecipare alla campagna di screening per il tumore della mammella. Si tratta di fare una mammografia gratuita, senza tempi di attesa e senza impegnativa del medico. Oggi il tumore della mammella è una malattia molto frequente, dalla quale però si può guarire se viene fatta diagnosi precoce. La diagnosi precoce si fa con la mammografia, per cui tutte le donne da 50 a 69 anni devono, possono e devono partecipare a questa campagna, perché lo screening salva la vita. Si chiama screening e salva la vita.